Vaccini per gli over 80 e caos prenotazioni, sito irraggiungibile, procedure che non si completano e appuntamenti in vie delle città dove non ci sono strutture sanitarie. Il primo click day della campagna vaccinale dedicata agli over 80 ha generato confusione e caos tra chi ha provato in vana a prenotare il vaccino per gli anziani di famiglia. I problemi al sito purtroppo non dipendono da noi, ha detto il direttore dell'ASPA Alessandro Caltagirone, ma chi vuole può anche prenotarsi telefonicamente. Chiarito anche il mistero del sito gelese fantasma. Chi dovrà vaccinarsi a Gela conferma Caltagirone e dovrà recarsi presso l'ex mattatoio. Soffocata dai debiti, un'anziana manterrà casa e risparmi. Dopo circa 20 anni di traversie, ha finalmente ottenuto la sicurezza di poter mantenere la casa dove vive e quel poco che è riuscita a risparmiare. Un'anziana quasi 80enne ha rischiato di perdere tutto a causa di un debito a contratto in passato e che le era lievitato fino a raggiungere cifre non più sostenibili. E' stata conclusa una transazione che mette in salvo la casa e i risparmi. Federico e Pellegrino, matrimonio con Musumeci. Il gruppo locale del presidente della regione nello Musumeci scrive due nomi di paeso tra le proprie fila. Nella prima serata di ieri è stato ufficializzato il passaggio, diventerà bellissima, dell'ex deputato regionale Pino Federico e del consigliere comunale di Avantigella, Gabriele Pellegrino. Pare invece non sia ancora in procinto di aderire l'altro consigliere comunale di Avantigella, Salvatore Scerra, che la scorsa settimana sembrava aver dato ampie aperture. Con Federico il gruppo locale dei Musumeciani di fatto mette anche una bandierina su una possibile candidatura alle prossime regionali. Immobili abusivi, regolamento al patrimonio. Per ora non arriverà in aula consigliare regolamento sulla gestione degli immobili abusivi. La commissione urbanistica ha chiesto ulteriori verifiche al dirigente del settore patrimonio del comune. Per mesi i consiglieri hanno atteso risposte dalla regione, ma ad oggi non sono giunti riscontri adeguati. Sono migliaia gli immobili non in regola che potrebbero essere acquisiti al patrimonio indisponibile del comune. Gestione impianti sportivi e amministrazione a confronto Il futuro degli impianti sportivi della città, la loro gestione e finanziamenti per ridare loro nuova vita. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori Cristian Malluzzi e Terenziano Di Stefano ne hanno parlato ieri con il consulente del comune per lo sport e lo sviluppo economico, l'imprenditore Maurizio Melfa, e con i dirigenti dei settori lavori pubblici, sport e patrimonio. L'idea è quella di lavorare alla riapertura delle strutture che giacciono da anni abbandonate e vandalizzate mediante affidamento a società e cooperative da individuare attraverso bandi e avvisi pubblici. Ben ritrovati con una nuova edizione della TG quotidiano. Come avete sentito dai titoli, in apertura il caos sulle prenotazioni dei vaccini agli over 80. Sito irraggiungibile, procedure che non si completano e appuntamenti in via delle città dove non ci sono strutture sanitarie. Il primo click day della campagna vaccinale dedicata agli over 80 ha generato confusione e caos tra chi in vano ha provato a prenotare un vaccino per gli anziani di famiglia. Il punto nel servizio di Gerry Italia. Si sta rivelando veramente complicata la campagna vaccinale aperta in Sicilia da lunedì alla popolazione, rivolta per ora agli over 80, mentre in altre regioni come la Liguria si è ovviamente tenuto conto del fatto che persone con più di 80 anni avrebbero fatto fatica a prenotare online il vaccino e si è scelto di inviare le lettere cartacee a casa, in Sicilia ci si è affidati esclusivamente alle tecnologie digitali che come spesso già accaduto in passato non hanno retto alla mole di richieste. Il sito del Ministero a cui si veniva reindirizzati dal sito dell'ASPE e dalla Regione per effettuare la prenotazione ha iniziato ad andare in tilt già nelle prime ore di afflusso. In molti non sono riusciti a completare la procedura e nonostante l'inserimento regolare ai tutti i dati si vedevano spuntare il più delle volte un messaggio di errore. Noi ci abbiamo provato assieme a Luigi Fraglica che da ieri prova inutilmente a prenotare il vaccino per i genitori oltre 80 anni. Ho messo le credenziali di mio papà dove chiede il numero di testa sanitaria e il codice fiscale. Però questo sistema non sta accettando, dice che le credenziali non sono valide. Proviamo a farlo assieme allora. Sì, facciamo insieme di nuovo. Allora, inseriamo il numero di tessera che sarebbe questo. E allora iniziamo, fatto. Inseriamo il codice fiscale che già è qua, però lo ricontrolliamo insieme. Ora accettiamo che ha preso visione, ecco qua, accediamo e come vedete dice attenzione, le credenziali, non so se già l'ha inquadrato, non vanno bene. Da quanto tempo è che stamattina provi a fare l'accesso? Diciamo che da ieri sera che provo, anche da stamattina, perché pensavamo che era un problema di testa sanitaria scaduta, ma mi sono scritto all'ASD tramite email, mi hanno mandato questa provvisoria, l'abbiamo inserita e risulta sempre la stessa cosa. Il sito è gestito dal Ministero della Salute, ma per chi riscontrasse eccessivi problemi nella procedura si può prenotare telefonicamente al numero verde, come spiega Alessandro Caltagirone, direttore generale dell'ASP di Caltanissetta. È possibile cliccare sul nome dove c'è messo clicca sul banner e c'è un reindirizzamento verso il sito regionale dove poter fare la prenotazione. In caso ci fossero problemi a prenotare, si può sempre chiamare il numero verde 800-00-9966 per fare una prenotazione telefonica. Ma non basta superare il primo step per risolvere tutti i problemi. Chi ad esempio in città è riuscito a completare l'iscrizione ha ricevuto una data di appuntamento presso il centro di Via Pizzarro, indirizzo dove però non c'è alcun centro ASP. Anche in questo caso fa chiarezza il direttore dell'azienda sanitaria. È stata messa, non solo da chi, questa Via Pizzarro che comunque corrisponde all'ex mattatoio dove in passato abbiamo fatto anche le campagne di tamponi per la gente grafica e la richiesta, quindi i locali sono gli stessi. Solo un problema causato dall'approssimazione di Google Maps dunque. Il sito preposto si trova presso i locali dell'ex mattatoio di Via Giovanni Falcone, già sede dei primi screening anti-Covid. Insomma il bilancio è di totale incertezza nella difficoltà massima creata per gli anziani che da oltre un anno aspettano questo momento per poter finalmente tornare a vivere con più serenità. L'augurio è che la campagna proceda regolarmente al di là degli intoppi tecnologici. Da ieri è stato possibile effettuare la prenotazione a far data dal 20, fino a credo i primi di marzo. Poi arriveranno nuove indicazioni da parte della Regione perché questa campagna vaccinale degli anziani non la stiamo gestendo direttamente tramite il sito della Regione. Rimane stabile la curva del contagio da Covid in città. Nelle ultime 24 ore sono 10 nuovi positivi in isolamento domiciliare. Sono invece 26 i guariti, segnali confortanti, mentre ieri c'è stata la ripresa, seppur al 50% in presenza, alle scuole superiori. Un altro paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria, un altro è stato dimesso. L'unico decesso segnalato da ASP riguarda un paziente di Mussomeli. I contagi nel territorio sono 6 a Niscemi, 2 a San Cataldo, 1 a Caltanissetta e Campofranco. Sono guariti 12 pazienti di Caltanissetta, 8 di Niscemi, 4 di San Cataldo, 1 di Bonpensiere, di Mazzarino e di Mussomeli. Dopo circa 20 anni di traversie ha finalmente ottenuto la sicurezza di poter mantenere la casa dove vive e quel poco che è riuscita a risparmiare. Un'anziana di quasi 80 anni ha rischiato di perdere tutto a causa di un debito contratto nel passato e che è lievitato nel corso del tempo fino a raggiungere cifre non più sostenibili. È stata conclusa una transazione che mette in salvo la casa e i suoi risparmi. Rosario Cauchi. 20 anni della sua vita trascorse a tentare di estinguere un debito di lavoro che avrebbe potuto portargli via anche l'abitazione. Ora quella lunga strada è finalmente conclusa per una pensionata che ha lavorato nel settore del commercio, ormai quasi 80enne. È arrivata la conferma che la casa e quello che ancora possiede rimarranno nella sua piena disponibilità. Anche il giudizio civile già avviato è stato definitivamente bloccato. Una transazione conclusa permetterà all'anziana di mantenere l'immobile e quel poco che era riuscita a mettere da parte nonostante il debito. L'evitato all'epoca fino a circa 100 milioni delle vecchie lire. Il legale che l'ha rappresentata nell'ultimo periodo ha rimesso mano interamente a tutto il caso ed è riuscita a chiudere l'accordo con la banca e con una società privata creditori della donna. L'avvocato Samantanetti ha ottenuto il pieno impegno delle parti ad accettare una somma decisamente inferiore rispetto a quella iniziale salvaguardando però le proprietà e i risparmi dell'anziana che fino all'ultimo ha temuto di dover dire addio anche alla casa in un periodo reso ancora più difficile dalla pandemia e dalla crisi che ha generato. Invece è arrivata un'intesa che leviterà ulteriori pesi economici dopo anni tribolati. Dopo aver contratto il debito infatti scattarono le garanzie richieste direttamente dai creditori e anche l'immobile di sua proprietà è diventato a rischio. Operatori ASP sospettati di truffe sui pasti della mensa. L'inchiesta è piuttosto vasta e tocca quasi 40 operatori tutti dipendenti di ASP. Secondo i carabinieri e PM della procura avrebbero forzato la mano su viveri e passi della mensa ospedaliera non per ragioni di servizio ma per finalità private. Tra gli indagati ci sarebbe anche un medico attualmente impegnato in ospedale. I PM della procura sono certi che siano stati degli illeciti anche se allo Stato il GIP non ha autorizzato le emissioni di misure. La procura nelle ultime settimane avrebbe già ricorso all'esame per richiedere che vengano concesse misure restrittive. I militari hanno avviato tutti gli accertamenti e non a caso due anni fa vennero arrestati due dipendenti di un'azienda esterna che però operava per conto di ASP proprio nelle cucine del nosocomio. Sono stati scoperti i commerci e pasti portati via dalle cucine del nosocomio. Entrambi hanno concordato la pena ma già in quella fase l'intagina era pienamente in corso con appostamenti e un monitoraggio complessivo da parte dei carabinieri. Ora si attendono nuovi sviluppi e l'ipotesi di reato per essere principalmente quella di truffa. Passiamo adesso alla politica. Il gruppo locale del Presidente della Regione nello Musumeci scrive due nomi di peso tra le proprie fila. Nella prima serata di ieri è stato ufficializzato il passaggio e diventerà bellissima dell'ex deputato regionale Pino Federico e del consigliere comunale di Avantigela Gabriele Pellegrino. Pare invece non sia ancora in procinto di aderire l'altro consigliere comunale di Avantigela Salvatore Scerra che la scorsa settimana sembrava aver dato ampia apertura. Con Federico il gruppo locale dei Musumeciani di fatto mette anche una bandierina su una possibile candidatura alle prossime regionali. Gerry Italia. Su Pino garantisco io sono queste le parole con cui il Presidente della Regione nello Musumeci ha dato il via al vertice catanese di diventare bellissima con cui è stato sancito l'ingresso dell'ex parlamentare forzista Pino Federico e del consigliere comunale Gabriele Pellegrino all'interno del movimento fondato proprio dal governatore siciliano. Era nell'area ormai da settimane che il gruppo dell'ex Presidente della provincia fosse in procinto di accasarsi tra le fila dei fedelissimi di Musumeci e così è stato. Il Presidente in persona ha voluto sancire l'adesione durante un incontro che si è tenuto proprio a Catania. C'erano Federico e Pellegrino ma anche il coordinatore regionale Gino Ioppolo quello provinciale Paolo Mattina e il commissario cittadino Michele Orlando. Una campagna acquisti importante per il gruppo locale dei Musumeciani che di fatto mette anche una bandierina su una possibile candidatura alle prossime regionali ma non ha voluto parlare di elezioni il neomusumeciano Federico che racconta così la sua scelta. Non abbiamo discusso di candidatura o non candidatura non era questo l'ordine del giorno e non mi interessa. Ho dato la mia disponibilità a fare crescere il movimento a dare un contributo affinché il movimento diventera bellissimo cresca in provincia del Calzanissetti a livello regionale. Ma all'ordine del giorno c'era soltanto quello che ho chiesto al Presidente di una presenza di diventare bellissima forte nel territorio significa avere un rapporto fra la città e la regione soprattutto per sbloccare un insieme di progetti che la città purtroppo in questo momento sono rimasti indietro. A diventare bellissima pare invece non sia ancora in procinto di aderire l'altro consigliere comunale di Avantigella Salvatore Scerra che la scorsa settimana sembrava aver dato ampie aperture vuole ancora riflettere. Federico Pellegrino consigliere comunale più votato in assoluto le amministrative di due anni fa potrebbero intanto aprire la strada per altre adesioni al gruppo di Musumeci che pare candidarsi a diventare un contenitore politico importante per il centrodestra in città chiaramente in vista delle prossime scadenze elettorali. Al momento Pellegrino rimarrà consigliere comunale sempre con il simbolo di Avantigella senza dar vita al gruppo di diventare bellissima almeno in aula. Anche in questo caso Federico ha le idee chiare. A città ci sono tante questioni da affrontare lavoreremo per il bene della città non è un momento di andare in conflittualità con nessuno c'è un sindaco che ha vinto noi siamo stati mandati all'opposizione staremo all'opposizione però lavoreremo sicuramente per il bene della città. Ovviamente si fa riferimento anche a quello che accadrà tra due anni con le regionali se dovesse arrivare una chiamata per Pino Federico Pino Federico è pronto a scendere in campo ancora un'altra volta. Ma non è una scelta che deve fare è una scelta che deve fare il partito se c'è una necessità c'è bisogno che io scenda in campo è una scelta che deve fare la classe dirigente adesso diventerà bellissima come di Avantigella quindi nel momento in cui mi verrà chiesto ripeto ma io non ho la frenesia di essere candidato a tutti i costi perché la mia esperienza politica l'ho fatta e a me interessa soltanto aiutare questa nostra città a uscire fuori dalle difficoltà in cui si trova poi non ho assolutamente ambizione a tutti i costi a essere candidato se serve sono disponibili se i candidati sono altri sono sempre disponibili a dare un'aiuto al movimento ma ripeto con la finalità di aiutare questa nostra città a ripartire. Ed ieri la notizia delle tante segnalazioni da parte dei residenti di Via Sabboncialla a Macchitella che soprattutto nell'ultimo periodo si sono ripetute l'illuminazione pubblica è fuori uso da tempo soprattutto in un'area di parcheggio che al buio diventa molto pericolosa oggi alla luce di queste segnalazioni è arrivata la replica dell'amministratore della Gaelas Francesco Trainito. Stamattina siamo intervenuti prontamente abbiamo verificato che solo il problema indicato dalla vostra redazione al numero civico 16 se non ricordo male di una lampada non funzionante è stato sostituito un fusibile guasto come si evince anche delle foto che avete pubblicato voi nel sito tutta la via Sabboncialla è stata oggetto di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione infatti ci sono tutti i globi e le lampade tutte nuove a led. Mi dispiace constatare che noi apprendiamo uno sfogo di qualche cittadino che accusa di aver fatto diverse segnalazioni quando noi non abbiamo nessuna segnalazione in tal senso vi posso dire che ho fatto verificare all'assistenza tecnica non abbiamo nessuna segnalazione il personale è sempre intervenuto prontamente mi sembra assurdo che noi abbiamo trovato una situazione di buio totale a Macchitella abbiamo fatto interventi unici voi vedete la clinica Santa Barbara quando mi sono insediato io era totalmente al buio tutto il piazzale idem per tutte le zone di Mitrofe stiamo intervenendo abbiamo fatto presente che stiamo comprando 4.000 led e nel giro di sei mesi tutta la città verrà normalizzata sentirci attaccati per un intervento che tra prendi sono stati neanche segnalati e in ogni caso ammesso e non concesso che fosse per una sola lampada al buio creare un caso ci dà molto fastidio specialmente perché i nostri dipendenti lavorano e voi li vedete lavorare anche fuori erario li vedete lavorare di sabato di domenica con interventi massicci quindi questo noi ci dà fastidio ricordiamo a tutti che le segnalazioni non si fanno su Facebook mi dispiace per chi ha usato questo strumento le segnalazioni si fanno via mail al comune di Gela alla mail urp.comune.gela.cl.it al numero di telefono dell'URP 0933 906 306 o direttamente telefonando o recandosi all'URP non c'è un altro modo per fare le segnalazioni Facebook Twitter lasciate nei figli che ci giocano per ora non arriverà in aula consigliare il regolamento sulla gestione degli immobili abusivi la commissione urbanistica ha chiesto ulteriore verifica al dirigente del settore patrimonio del comune sono migliaia gli immobili non in regola che potrebbero essere acquisite al patrimonio indisponibile del comune Rosario Cauchi per ora è stato ritirato e prima di ritornare sul tavolo della presidenza del consiglio comunale verrà valutato dagli uffici del settore patrimonio di palazzo di città per il regolamento sulla gestione degli immobili abusivi ci sono ancora altre verifiche da effettuare i consiglieri della commissione urbanistica che se ne occupano ormai da tempo hanno deciso di rivolgersi al nuovo dirigente del settore patrimonio così da verificare se gli aggiustamenti apportati in base ad una nota della regione giunta lo scorso anno in municipio possono essere ritenuti congrui per mesi il presidente della commissione urbanistica Giuseppe Morselli e gli altri componenti Gabriele Pellegrino Vincenzo Cascino Alessandrace Diego Ieglietti hanno tentato ma ad oggi senza troppi risultati così il regolamento passerà al vaglio dei tecnici del patrimonio che dovranno accertare se l'assetto complessivo dell'atto possa ritenersi conforme alla disciplina in materia si tratta di un regolamento probabilmente tra i più delicati in assoluto con migliaia di immobili realizzati abusivamente che devono ancora passare al patrimonio indisponibile dell'ente anche per evitare la conseguenza estrema della demolizione i magistrati della procura e la prefettura attendono segnali dal municipio che deve dare seguito a quello che stabilisce la normativa in materia e negli ultimi mesi sono drasticamente aumentate le nuove ordinanze di demolizione e quelle che impongono il pagamento di sanzioni elevate per chi non abbia ancora adempiuto la mancanza di risposte dalla regione ha contribuito a rallentare un iter già piuttosto complesso un appello ai gruppi della grande distribuzione a investire in Sicilia e contemporaneamente alla regione a creare le condizioni per attrarre investimenti adeguando le infrastrutture a partire dagli scalimerci innalzando i livelli di sicurezza effettiva e la percezione di essa a lanciarlo Ignazio Giudice segretario regionale CGL a conclusione dell'assemblea generale della Filcams CGL Sicilia che ha focalizzato le priorità dell'agenda politico-sindacale della categoria l'aumento delle difese nei luoghi di lavoro gli ammortizzatori sociali il blocco dei licenziamenti il rinnovo dei contratti nazionali del lavoro guardiamo con molta preoccupazione a quello che sarà lo scenario nel 2021 ha detto Moni Acaiolo segretaria generale della Filcams Sicilia soprattutto se non dovesse essere prorogato il blocco dei licenziamenti sono migliaia e l'allarme della Filcams i posti di lavoro a rischio in Sicilia nel commercio nel turismo e nei servizi non è dunque più rinviabile il confronto con il governo regionale già peraltro da ne più volte chiesto sottolinea Acaiolo per una condivisione delle priorità e un giusto impiego delle risorse del recovery fund il futuro degli impianti sportivi della città la loro gestione e i finanziamenti per ridare loro una nuova vita il sindaco Lucio Greco e gli assessori Cristian Malluzzi e Terenziano Di Stefano ne hanno parlato ieri con il consulente del comune per lo sport e lo sviluppo economico l'imprenditore Maurizio Melfa e con i dirigenti dei settori lavori pubblici sport e patrimonio l'idea è quella di lavorare alla riapertura delle strutture che giacciono da anni abbandonate e vandalizzate mediante affidamento a società e cooperative da individuare attraverso bandi e avvisi pubblici Gerry Italia L'esempio del palalivatino è quello da seguire un effetto moltiplicatore che potrebbe dare una svolta per la gestione e valorizzazione degli impianti sportivi comunali su queste direttrici si è mossa l'amministrazione dopo l'incontro con il consulente del sindaco Maurizio Melfa l'idea è quella di ripartire dando in gestione le strutture pubbliche snellendo gli leader burocratici per captare tutti i finanziamenti e i bandi che permettono di rimettere in sesso strutture fatiscenti a costo zero la prima cosa da fare però è procedere con una ricognizione di queste strutture una sorta di censimento l'ultimo risale a sei anni fa per capire quali siano di pertinenza comunale con contratti scadenza ci sono due importanti strutture da riaprire dopo una lunga chiusura il Presti e il Palacossiga e l'accesso a finanziamenti sin cui mai sfruttati potrebbe anche consentire investimenti a costo zero per il comune la linea di questa amministrazione naturalmente è quella di puntare su quello che è il mondo dello sport e su quelle che sono le associazioni sportive l'amministrazione comunale sin da subito si è attivata per i lavori all'interno del Vincenzo Presti lavori che ad oggi continuano lavori definitivi e ultimatori che andranno poi a vedere alla fine di questo intervento quella che è la convocazione della commissione pubblici spettacoli come potete vedere noi alle inutili polemiche rispondiamo con i fatti il dato è chiarissimo questa amministrazione negli ultimi dieci mesi ha speso una notevole somma per le strutture sportive soprattutto per il Vincenzo Presti e lo sta continuando a fare per quello che è il Palacossiga è una notizia tra l'altro nuova è giusto che la città sappia da poco abbiamo concluso tutto quello che è il leader per il Palacossiga abbiamo anche ceduto l'aria per la cabina dell'Enel al Palacossiga quindi a brevissimo avremo l'illuminazione anche all'interno del Palacossiga l'idea è quella di dare intanto una gestione temporanea a quelle società che ne fanno richiesta per potersi iniziare ad allenare e per poter fare anche le partite lì dove sia possibile a porte chiuse c'è anche la volontà di affidare le strutture alle società minori chi se ne prenderà cura però dovrà occuparsi anche della manutenzione della sicurezza e riconsegnare il bene al comune al termine del periodo di affinamento nelle stesse condizioni in cui lo ha trovato la linea dell'amministrazione comunale appunto è quella di valorizzare a brevissimo invieremo al settore patrimonio il piano delle valorizzazioni così anche seguendo quelle che sono le direttive votate nell'ultimo consiglio comunale su quello che è il regolamento della gestione e valorizzazione e andremo a dettare le linee chiare che sono quelle di valorizzare e partire da quello che è il nostro patrimonio sportivo dando la possibilità a quelle associazioni e quindi quelle imprese che sponsorizzano e aiutano queste associazioni di crearsi un centro sportivo di gestire una struttura comunale e di riportare agli albori una città che ha uno storico sportivo non indifferente Quello che è mancato in questo periodo è stata sicuramente la certezza dei tempi è successo per lo Stadio è successo per il Palacostica ancora oggi non riuscite a dare dei tempi definitivi per la loro riapertura? Allora per il Vincenzo Pressi posso dire chiaramente che i tempi sono veramente brevissimi i lavori dovrebbero concludersi la prossima settimana abbiamo già fatto nel mese di novembre una pre-commissione con la commissione pubblici spettacoli per capire tutto quello che c'era da fare è ovvio che i tempi dell'amministrazione non sono paragonabili con i tempi di un privato o di un'impresa perché l'amministrazione deve rispettare determinate procedure e quindi i tempi burocratici ci sono ma noi abbiamo fatto di tutto per velocizzare l'iter e per fare in modo che si possa finalmente arrivare alla parola fine quindi all'apertura totale dell'impianto sportivo senza nessun tipo di prescrizione cioè riportare il Vincenzo Presti ad un'apertura totale sia delle curve che degli spogliatoi che della curva boscaia ieri i giudici della Corte d'Assise di Milano hanno assolto il 64enne Antonio Rinsivillo era accusato di essere il mandante dell'omicidio di Cristoforo Verderame risalente a 33 anni fa per quei fatti i PM dell'antimafia Lombarda avevano chiesto l'ergastolo Rosario Cauchi i giudici della Corte d'Assise di Milano hanno assolto il 64enne Antonio Rinsivillo già ai vertici dell'omonima famiglia di mafia e danni ristretto sotto regime di carcere duro per i magistrati milanesi non ci sono prove certe di un suo coinvolgimento nell'omicidio di Cristoforo Verderame un gelese freddato nella piazzale di una scuola a San Giuliano milanese ormai 33 anni fa per gli investigatori dell'antimafia sarebbe stato Rinsivillo ad ordinare la spedizione di morte così da lanciare un messaggio ai rivali della stida che stavano cercando di farsi strada anche nell'interland del capologo Lombardo dove arrivò la faida tra i due gruppi accuse che hanno portato Rinsivillo a processo anche sulla scia di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Antonino Pitrolo condannato in abbreviato per questi fatti e che si è autoaccusato dell'omicidio i legali di Rinsivillo gli avvocati Flavio Sinatra e Deliana Azzecca sono invece riusciti a dimostrare l'assenza di elementi concreti per collegare il 64enne all'azione di morte in un altro filone di indagine ma poi i PM milanesi hanno riaperto l'inchiesta basandosi anche sui riscontri dei collaboratori di giustizia i difensori di Rinsivillo hanno fatto una disamina delle contestazioni ribadendo l'assenza di qualsiasi coinvolgimento dell'imputato i giudici hanno emesso sentenza di assoluzione nonostante la richiesta di Argastolo formulata dal pubblico ministero condanna chiesta anche dai legali dei familiari di Verderame che si sono costituiti parti civili sia nell'abbreviato che ha portato alla condanna di Pitrolo sia nella giudizio in assise contro Rinsivillo i legali gli avvocati Carmelo Tuccio e Giuseppe Simonetti hanno sostenuto la piena colpevolezza del boss ritenendolo mandante dell'agguato mortale i giudici della corte d'assise hanno però emesso sentenza di assoluzione quello di Verderame fu uno di diversi omicidi di mafia commessi nella zona di Milano alla fine degli anni 80 con vittime gelesi è tutto questa era l'ultima notizia vi ricordo che potete continuare a seguire i servizi al nostro telegiornale con tutti gli approfondimenti anche sui nostri profili social di Facebook Instagram e Youtube grazie per averci seguito Grazie a tutti